un ponte lunghissimo con tre trappole ok allora corriamo senza pensarci andiamo ragazzi andiamo nel far west aspetta o no c'è un attimo no 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 un attimo che tipo di voce si fa nel far west tipo è la stessa voce del cinghiale mi gratta la pancia non è giusto volevo essere un cinghiale carri al prossimo massacralo massacrali faccio cadere ferrenichi quando passa tu puoi passare se non faccio niente guardami allontano grazie non è giusto sono passato dietro di te mio dio che poi mi ha fatto male mi ha fatto danno mi ha fatto male ecco vedi luca dovevi completare l'opera almeno allora mi sa che rimezzano trappolo allora voi avete due vite e io ne ho tre allora allora quindi teoricamente non è vero luca la garanzia la garanzia sulle vite luca mi puoi uccidere però in modo delicato va bene esatto un pochino ci facciamo ci cuciniamo a oddio le salsiccione cucinare mi sono preso da 38 di vita mia è cotto per bene allora qua lui non può fare nulla quindi teoricamente e se dobbiamo correre corre io non so decidermi decidermi ok ci ho fatto ok 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 e qui e qui sì allora cosa secondo me ci arriva qualcosa dot questa cosa di legno secondo me bisogna andare nella porta ok 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 allora chi va è ottimo dov'è che si deve andare ha fatto quella del fuoco dai due tre vite però vai tu vai tu mi ha già fatto una era qui no non mi interessa stai facendo che potrebbe riscattare la trappola di prima sei brutto morire due volte per la cosa non vale non vale certo aiuto ok eccomi eccomi era qui secondo me moriamo a luca cioè guarda allora non c'è luca lì sotto c'è del gas tossico che ammazza ok ok ce l'ho fatto sono fatto di titanio baby ma dai ma dai dai step non puoi morire così ecco qua si è messo a ballare nell'acido non riusciva a risalire la scala dai dai ce la puoi fare ce la puoi far freni oh mio dio è l'unica che è la rischia e la passata come si doveva passarla vai tu espi vai no ti devi sacrificare io sono appena morto secondo io non abbiamo tutti una vita abbiamo tutti una vita non fare le finte che si è impossibile esplode tutto la più coraggiosa allora tutto così tutto un po zico zago no 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 non mi spinge la ferro e perché ti devi togliere ok io provo a passare qui la mamma mia magari in realtà non fa niente questa trappola no no espi secondo me quei barili esplodono grazie ti saremo per sempre grati ci ricordiamo di te fare oddio non lo so ti cura ti cura sì 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 ok siamo tornati a 100 di vita alla facciata ma luca peccato che tu non sia arrivata fino a qui grazie e vabbè dispiace adesso vado da luca vado da allora no no non è giusto anche io voglio andare da luca allora dove dobbiamo andare sulla destra c'è un qualcosa viene guardata dobbiamo andare a destra sì però vedi questa freccia rossa vuol dire che qualcosa ci viene addosso esatto secondo me è una macchina non so cosa c'entra col far west ma non è una macchina secondo me secondo me è una mucca io ne ricorro ha funzionato io odio stef adesso com'è che faccio passare questa cosa poi aspetta non c'era lui mamma mia non lo so barili ma io volevo che l'attivarsi te no luca fallo tu fallo tu allora dobbiamo soldare a si rompe di qua e poi salti vai ok hai capito che cos'è o no c'è nessuno ancora di trappole allora hai capito che cos'è ragazzi ci sono ci sono vi piacciono le scale no e dove sei morto pure tu sì che cos'è non vale no sono venita quella dopo aiuto eccomi 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 cosa potevi poter esprimitare mi spiace ma le due game over oddio ma questa cosa è tipo tutta la conoscete la regola del phone nella vasca no no questa è spi il mago della distrazione però paura di questa cosa quando ero insieme a testi spiega la bravura è vero è sparito stavate chiacchierando e luca è così si fermano ci ammazzano infatti si fermano no ma devo ballare che passate schiattate no non sappiamo se si fermano capito io sono qua controllare se passa o meno luca e non ho capito dove è finito luca e io sto aspettando quello che mi viene si può passare no ma è un ucciso c'è come faremo da fare fare due vite luca due vite luca per dal volo è grave che si abbia più vite di voi e io davvero io con i tre per ora non tre ragazzi c'è della dinamite mi piacciono tra pieno di dinamite mi sembra giusto allora io propongo che vai spi non mi preghi più caro può essere vorrei provarla su e vieni che vediamo scusami si si belle belle finte spi grazie ma ti vogliamo ho delle caramelle allora ho questo questo pezzo è difficile anche se io non faccio nulla perché se beccate quegli spuntoni intorno a quel pezzo di legno morite quindi dovevo se puoi fare essere precisi non idea e spino un'idea però se solo che se prendete lì perché non mi provi a vedere cosa puoi fare così da inizi preparato la cosa no grazie spi sei gentile ma no ok quando vuoi salta e poi lo scopriamo io l'ho appena perso una vita quindi faccio io mi sono appena sacrificata nella trappola precedente come pollo non ci credo dai allora tanto adesso in questa trappola io non faccio più nulla quindi se ce la fate a saldare tutto sopravvivete giuro ok bravissimi anche in questo giuri veramente si giuro che salto che c'è vieni qua vieni a guardarmi negli occhi allora abbiamo visto entrambi cosa hai fatto ok te la lascio passare buona ma hai dell'ombretto Steph no espi non è quello non è quello il discorso ah so che è imbrogliato te la lascio passare ma adesso devi andare per primo nella prossima trappola oh no già e non credo sarà bella non lo so sinceramente fatta me ne vado me ne vado vai vai sfondiamo si vai si yes non picchiatemi però ciao belli benvenuti all'ultima parte avete tutti una sola vita avete una sola vita e finirà molto presto ma il boss ma che trappola schifosa ma dai sì ma non sono più veloce ma tornano lenti no cari dovete andare ah no oddio tornano lenti peccato io ho cercato di mettere paura ok piano tutti una vita cos'è questo no non vado su un altro trasportatore ho paura allora oddio quindi bisogna passare io no io no io sono a stemio andate voi io sono appena andato Luca appena andato per i migli vai sì ciao mamma mia non è possibile lo frego sempre sono viva che bello vai 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 che ingiustizia no oddio no no oh barili 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 attento ok ok schiva espi è morto espi è morto come si usa questa trappola così no espi non provare a cliccarla giuro eh vai espi provala è l'ultima cosa che fai se clicchi con la trappola davvero mi stai tentando un sacco allora forza Luca io non so cosa possa succedere io tiro fuori mi piacciono le biglie ok ma cos'è sta cosa cos'era cos'era questo cosa si alzava e doveva tipo stef non possono vincere vero vi lo devo imparire espi espi no sai cosa fare ok li ha amati entrambi perfetto perfetto ho sistemato ha usato un'arma nucleare finale ma dai non è giusto avevamo usato ce l'avevo in dotazione espi non era la fine li abbiamo ammazzati ingiustamente c'era tutto un livello finale espi ho rovinato un pochino l'atmosfera mi sa espi nel far west sono cose normali quindi va bene sei giustificato e rifai la voce del far west però e mi gratti il pancino no espi non ti gratto il pancino quindi tranquilli che allora fuori è un ponte lunghissimo con tre trappole ok allora corriamo senza pensarci facciamo un esperimento vai tu siamo arrivati ti piacciono gli esperimenti visto che ti piace sperimentare vai tu ok ti ho lasciato andare ormai certo certo vai 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 Luca puoi andare tu adesso no no dai vediamo l'ora dai tu non andrarti da solo e vattene da qui trappola ahhh non è l'ultima non è neanche l'ultima volta sì è l'ultimo ponte che si toglie il ponte che ci separa dal tesoro di Indiana Jones è sicura sì non le rovine aspetta Luca sono genio passa sulle funi vai Luca vai funziona io ne dubito però se volete provare vai Luca funzionerà di sicuro no non si spinge epi non spinge l'ultima trappola lasciano l'incorazzo non andare per a piano vai ah non funzionano ok ah si rompeva tutto buono così si rigenera il ponte vero credo di sì spero di sì ok ce l'abbiamo fatta sì finito ui aspetta aspetta ma qua ci sono di giochi aspetta ma ci sono dei minigiochi ragazzi una sfida epica vi attende allora chi arriva prima alla fine vince questi sono dei salti da fare che cosa ti vince e che cosa io non rischio la vita per nulla allora scusate non ci avevo pensato al premio vi potrebbe andar bene un panino no che cosa un set di pentole sì bravo quello serve sempre bravo serve sempre sono super nuove in acciaglia antiaderenti perfette per cucinare qualsiasi cosa dalle altre due ok il placement che facciamo 3 2 1 via ok ok andiamo andiamo no ok come si sale no ok no ho vinto no ho vinto no mi ha anche ucciso non è corretto ha infranto regolamento è arrivato prima mi ha ucciso siete pronti a livello più esplosivo fere fere cos'è quello che è successo perché sono morta io con un cannone perché mi è esploso il pazzo secondo voi l'hai puntato nella direzione sbagliata mi sa quindi gente questo era una corso ostacoli insieme ai 2 players 1 console spero vi sia piaciuto non dimenticate di lasciare tantissimi piaci e commenti qui sotto se volete altri episodi e noi ci vediamo la prossima volta ciao ciao ciao